Eccoci, ci troviamo a San Pier d'Arena, siamo all'ultimo piano di una palazzina ovviamente dotata di ascensore con il riscaldamento autonomo e le spese ordinarie decisamente contenute sono circa 50 euro al mese. È un seivani grande, sono circa 90 metri quadri e partiamo nel nostro giro ovviamente dall'ingresso. Questa è la porta d'ingresso e alla nostra destra abbiamo una prima camera gigantesca, qui qua sono più di 20 metri quadri, l'esposizione è un est nord ovest, molto silenzioso, molto tranquillo. Quindi abbiamo questa grandissima camera. Poi qui abbiamo una grande comoda dispensa, molto grande, una seconda camera da letto matrimoniale. Qui cambiamo l'esposizione ma siamo sempre distanti dalla strada, quindi comunque molto silenzioso, molto tranquillo. Qui siamo a ovest, fra poco va il sole e ci rimane fino a questa sera. Quindi questa grande, questa seconda grande camera. Alla nostra sinistra abbiamo il bagno dotato di vasca. È una grande cucina abitabile, molto grande. Ovviamente l'appartamento viene tinteggiato dal proprietario e verrà consegnato tutto bello imbiancato. Doppia esposizione, siamo, questo è sempre un ovest. Doppi vetri. E questo è un nord. Ci resta da vedere quella che è la sala, che è un altro vanno di nuovo decisamente grande. Come si vede la casa gode di una grandissima luce. Quindi questa è la terza camera, o la sala, che ha accesso sia dalla cucina che abbiamo appena visto, sia dall'ingresso. Quindi, ripercorrendo un attimo, abbiamo l'ingresso, abbiamo questa grande camera, abbiamo due dispense, qui ce n'è una, più piccolina, e qui ce n'è una bella grande, comodissima. Un'altra camera molto grande. Bagno. Cucina grandissima. E qui abbiamo la sala. Dicevamo, riscaldamento autonomo, siamo all'ultimo piano. Le spese molto contenute, circa 50 euro. E l'appartamento verrà tutto imbiancato dalla proprietà. E qua terminiamo il nostro giro.